L'udienza in programma oggi in Tribunale a Como per il cosiddetto processo bis per il fallimento del Casinò di Campione è stata rinviata il prossimo 17 maggio per l'improvvisa indisponibilità di una delle parti. Nell'udienza dovrà essere discusso il piano di concordato proposto dalla società di gestione del Casinò per evitare il nuovo fallimento, chiesto invece dalla procura di Como. Per l'amministrazione comunale la riapertura della casa da gioco è una priorità. L'ospicio dell'amministrazione è quello di un riavvio della casa da gioco. Casa da gioco vuol dire occupazione per il paese, vuol dire un riavvio anche di tante attività sinergiche sia per la comunità di Campione ma anche per la stessa provincia di Como. Il concordato prevede la riassunzione di circa 175 persone che non sono poche e con un piano molto rigoroso, molto cauto che certamente si discosterà da quelle che sono la situazione precedente di Campione. Il piano depositato in tribunale prevede una riduzione netta del costo del lavoro con il passaggio dai quasi 500 dipendenti del passato a circa 175. Cambierà anche il rapporto tra casa da gioco e comune di Campione. Il comune non sarà più dipendente come era prima dalla realtà della casa da gioco perché il comune in sé riuscirà a breve ad essere autosufficiente nella parte di spese correnti e utilizzerà i fondi che saranno certissimamente meno, li abbiamo anche prefissati diciamo, per fare investimenti sul territorio e quindi non ci sarà più quella necessità di dover ricevere dalla casa da gioco delle somme che prima erano veramente eccessive e altissime. Se il concordato venisse accettato l'obiettivo sarebbe una riapertura in tempi brevi. Auspicabilmente per fine anno ecco, diciamo, questo è un termine che pensiamo sia realizzabile.